Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta, con un'unica passione per la bicicletta. Un incrocio di destini in una strana storia, qui come nei giorni nostri si è persa la memoria. Una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia e l'amore il distacco già cresce, e chi sarà il campione già si capisce. Vai girare dentro, vai grande campione.